Musica Salvatore Barillaro dirigente dell'Atletico Meli Cucco che ha sbancato il Saverio Spinella lui il microfono per commentare questa partita Buonasera a tutti, l'Atletico Meli Cucco spugna un campo difficile quello della Melitese con il risultato di 2-1 al secondo l'Atletico Meli Cucco è passato in vantaggio con D'Agostino e poi con Vecchiè partita bellissima caratterizzata anche da una Melitese ben messa in campo piena di giovani, ricca di giovani talenti che sicuramente avranno un futuro Il prossimo turno il prossimo turno vedrà impegnato l'Atletico Meli Cucco nel derby contro il Polistena per far sì di continuare la striscia positiva che dura da un bel po' Eccolo qua il leggendario Rolando Megna che non ha bisogno di presentazione essendo stato per decenni uno dei grandi campioni del calcio calabrese e poi da allenatore anche qui grande a lui microfono per commentare questo importante successo in campo esterno È stata una partita da due volte perché il doppio vantaggio ci ha un po' spento l'entusiasmo infatti ci siamo un po' adagiati il primo tempo è stato un brutto primo tempo il secondo tempo ci siamo ripresi sul piano del gioco però sul piano delle conclusioni abbiamo sbagliato molto e questo mi dà fastidio perché le partite si chiudono perché abbiamo incontrato una squadra di ragazzi messe bene in campo che hanno dato l'anima che giocano bene a calcio e quindi bisogna avere rispetto chiudere le partite e continuare sempre a giocare Il Melecucco ha avuto una decina di palle e golle a parte il calcio di rigore è parato ottimamente dal portiere ma è sempre un rigore sbagliato quando lo pare il portiere Quando si tira il rigore bisogna stare concentrati bisogna capire anche il momento in cui si tira perché quel rigore avrebbe dato dieci minuti di riposo a tutti e di tranquillità invece non siamo stati cinici non siamo stati attenti poi gli errori rischiamo di pagarli alla fine c'è stato un contropiede che ci poteva mettere in difficoltà Questo purtroppo è il calcio bisogna avere sempre rispetto dell'avversario e non mollare mai perché io lo dico sempre ai ragazzi bisogna avere sempre attenzione non mollare mai la presa ed essere anche perché nella posizione in cui noi siamo non ci possiamo permettere nessuna disattenzione sono quattro mesi che rincorriamo 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 non dobbiamo sprecare il bello e il bene che abbiamo fatto quindi dobbiamo stare sempre concentrato e sperare in un passo falso della Cinque Frontese Il Melicucco ha giocato in serie superiore ci vuole un grande allenatore per riportarlo su? Ma questi sono progetti che poi vedremo con la società sicuramente Melicucco è una bella piazza ha fatto l'eccellenza nei tempi belli nei tempi migliori ha un impianto sportivo all'altezza e ha una dirigenza all'altezza quindi ci sono tutte le Una tifoseria competente appassionata Sì, quello sicuramente ci sono tutti i presupposti per fare bene però bisogna programmare bene e vedere poi ci sediamo alla fine vediamo dove arriviamo e dove possiamo arrivare poi i conti si fanno poi alla fine Il ripescaggio in prima è quasi scontato? Il ripescaggio in prima il bello è vincerlo il campionato il ripescaggio ci sta d'accordo anche se potremmo entrare dalla porta principale perché se arriviamo a 10 punti sulla seconda potremmo anche entrare noi in 5 fondi di diritto senza playoff quindi ci sono tante finestre aperte vediamo da quale parte entra il Mericuc Ha giocato partite quasi perfette la Meritese ma spesso ha raccolto soltanto un pugno di mosche come oggi Sì, oggi abbiamo giocato abbiamo giocato contro la seconda in classifica con delle motivazioni il Mericuc aveva delle motivazioni diverse dalle nostre noi abbiamo giocato rilassati abbiamo giocato senza avere quasi nessun interesse per quanto riguarda la classifica metti poi che abbiamo preso due gol a freddo dopo 5 minuti credo perdevamo già 2 a 0 quindi una partita complicata che però siamo poi riusciti ad avere una meravigliosa reazione non c'è stata una reazione arrabbiosa comunque siamo riusciti a giocarcela in certi momenti anche alla pari con loro loro hanno meritato di vincere hanno dimostrato di essere una buona squadra anche se la Meritese al novantesimo ha avuto la palla del 2 a 2 sì abbiamo avuto la palla del 2 a 2 anche prima abbiamo avuto qualche altra occasione ce l'hanno avuto anche loro ti ripeto loro avevano delle motivazioni sono secondi in classifica non per caso era una partita decisiva per loro per noi invece era una partita di fine stagione era una partita che per noi abbiamo giocato abbiamo anche rischiato di pareggiare abbiamo rischiato anche di prendere il terzo gol e poi c'è stata la protezza di Mante sul rigore in altre 2-3 occasioni abbiamo rischiato di prendere il terzo gol ma abbiamo anche rischiato di segnare il secondo gol e di pareggiare la partita quindi contentissimo contentissimo della prestazione dei ragazzini parliamo appunto degli un fan prodigi dei golden boy Manti Caracciolo penso che noi oggi eravamo noi oggi eravamo in campo con 10 under dall'inizio c'era il solo candido che era un fuori quota gli altri erano tutti under tutti 2001 99 e compagnia di 100 quindi come Francesco Meduri si Francesco Meduri tutta la difesa Costantino Meduri Azizze Fratelli Corneri Barreca gli da tutti under e da ultimo anche Surfaro si da ultimo Surfaro e anche Pulitano tutti i ragazzini voglio dire quindi la primavera meretese si si la primavera meretese abbiamo non sono scontenta certo il risultato non è a nostro favore ma era preventivabile e comunque ti ripeto ti ricordo anche che oggi mancava il nostro uomo uomo simbolo voglio dire Zaccone perché con Zaccone quelle cose oggi sicuramente sarebbero state diverse voglio dire quelli che hanno giocato hanno dato il massimo Caraccio le compagnie hanno dato il massimo però voglio dire uno come Zaccone che è in velocità sai che specie in casa è fortissimo quindi molto probabilmente il risultato sarebbe stato forse diverso ma comunque bella grande meretese ora si deve pensare alla prima categoria no intanto ancora ci sono altre tre partite da giocare domenica andiamo a Lazzaro noi non abbiamo intenzione di regalare niente a nessuno ce la giocheremo sicuramente con una squadra giovanissima anche a Lazzaro però andiamo a giocarcela anche là poi giocheremo con il Gallina in casa quindi sono tre partite che ci giocheremo cercheremo di fare qualche altro punto di rimpinguare la nostra classifica e di chiudere con soddisfazione e con dignità grazie a tutti